Ragazzi guardate cosa sta facendo Shredder, si butta addosso il liquido e si trasforma, è diventato un super Shredder E questo sarebbe il boss finale del gioco Tartaruga Ninja 3 The Manhattan Project Versione Nintendo Tira delle scariche elettriche, dei fulmini Ho dimenticato di dirvi che questa è la terza parte dell'ottavo e ultimo livello Non sapevo che Shredder si trasformasse in Super Shredder Ora che un Super Shredder va eliminato, si è buttato addosso il liquido E poi voglio vedere come va a finire sto Io voglio vedere la fine del gioco Secondo voi come andrà a finire Tartaruga Ninja 3 The Manhattan Project Bene o male Ancora non lo sappiamo perché stiamo affrontando il boss finale Finalmente lampeggia Super Shredder L'abbiamo menato troppo Però dobbiamo sbrigarci a eliminarlo Stai che siamo vicini alla vittoria E vai sconfitto Super Shredder E vai sconfitto Super Shredder Battuto Ora inizia a esplodere questo posto Questa base spaziale Dobbiamo uscire di qui Con il nostro tarta dirigibile riusciamo a scappare via E vai vittoria Le Tartaruga Ninja hanno trionfato e hanno vinto E la città è salva Abbiamo salvato Manhattan E ora c'è un grido Il segno di vittoria Kawabanga Congratulazioni Tartaruga Bene ora possiamo vedere il cast Abbiamo Leonardo Raffaello Michelangelo Donatello Food Soldier Stone Warrior Rocksteady Ground Shack Slash Bebop Dirtbug Mother Mauser Leatherhead Razer Shredder Shredder Tocca Krang Super Shredder Bene è tutto Vi saluto Iscrivetevi al canale Mettete un mi piace Se il video vi è piaciuto Condividetelo Ciao a tutti Bello è stato questo gioco Bello è stato questo gioco